Buon pomeriggio a tutti, oggi vi voglio parlare di un servizio bellissimo dedicato alle chiavette USB, sì, le famose chiavette USB. Tutti si lamentano che ci vuole tanto tempo per spedirle, il capodanno cinese, i cinesi stanno in ferie tanto e spediscono poco, le memorie mancano, qua non ci sono problemi. Da oggi è disponibile un servizio 24 ore con memore da 2 a 32 giga, sempre disponibili, su 19 chiavette selezionate da noi, sempre disponibili e montate qua dentro. Le 19 chiavette si compongono di alcune tre pezzi card, la t-shirt card, la card normale, la mezza card, più tre modelli stampati appunto in quadricromia o incisi di legno, legno certificato FIRSC. Le altre chiavette sono tra le più vendute, come potete vedere abbiamo anche la Twist, modello assolutamente, che avrà vinto tanti premi per la più venduta al mondo, l'abbiamo con gomma colorata e con metallo silver o bianco, li montiamo noi direttamente, quindi gli abbinamenti non ci sono problemi. Ripeto, 48 ore e vuol dire che oggi, che è mercoledì pomeriggio, mi chiamo un cliente e vuole 200 chiavette USB personalizzate in quadricromia fronte e retro, venerdì le ha a Milano come a Roma e in 24 ore se le ritira qua da noi presso il nostro showroom magazzino. Nel sito web prossimamente sarà disponibile, perché questo è un servizio appena nato, sarà disponibile l'elenco esatto anche in maniera digitale. Grazie.